Gioedì 13 settembre, buongiorno, ben ritrovati carissimi telespettatori di Fano TV, questa è la rassegna stampa, occhio ai giornali del mattino, in diretta alle 7.30. Un saluto anche a coloro che ci seguono in replica, partiamo dal Santo del Giorno, oggi la Chiesa Cattolica ricorda San Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore della Chiesa, nacque ad Antiochia di Siria a metà del IV secolo, nel 386 fu ordinato sacerdote e da quel momento si dedicò al Ministero della Predicazione della Parola di Dio e della Preghiera. E adesso, il sole intanto lo vedete, è sorto alle 6.44 e tramonterà a 19.24 minuti. Andiamo a vedere il tempo sulla pagina principale di Trebbi Meteo, tra giovedì e venerdì qualche pioggia o temporale, gli ultimi aggiornamenti danno qualche grado in meno rispetto al caldo africano, che però tornerà, quindi l'estate non è assolutamente finita, anche se nei prossimi giorni, e qui andiamo subito a vedere il sito della Protezione Civile delle Marche per il dettaglio, ci saranno condizioni in queste ore, nelle prossime ore, condizioni di stabilità. Per esempio, vedete dalla grafica, sull'Appennino Marchigiano, con nel poveriggio di oggi rovesci isolati o temporali, in particolare nelle zone meridionali della Regione. Le temperature più o meno sono stabili, anche se le massime saranno in lieve diminuzione. Per domani la pioggia si sposterà anche sulla costa pesarese, in particolare sia sulla costa sia sull'entroterra, durante le ore centrali di venerdì. Infatti avremo nel pomeriggio quindi isolati e rovesci o temporali sulla fascia peninica e occasionalmente anche verso la collina. E poi sabato, 15 settembre, ancora possibilità di brevi isolati e rovesci nel pomeriggio. La grafica ci indica ancora l'Appennino centro-meridionale e la collina costa pesarese. Poi la graduale ripresa dell'alta pressione determinerà condizioni stabili con isolati fenomeni solo sui rilievi appenninici. Cominciamo allora a vedere subito i giornali. Partiamo e alterneremo due giornali, il Carlino e il Corriere Adriatico. Ma prima andiamo a vedere e ringraziamo naturalmente i nostri telespettatori che di prima mattina, approfittando ancora di queste belle giornate, vanno a fare qualche passeggiata all'alba. E allora ringraziamo Mauro che questa mattina ne ha approfittato per fare due passi sulla panoramica dell'Ardizio. Qui siamo sulla collinetta, quindi che domina sul mare Adriatico. In fondo si vede il molo di Fano, infatti questa è la parte che si rivolge più verso sud, più verso Fano. Guardate, qui siamo alle primissime luci dell'alba di questa mattina. Stessa cosa ha fatto l'altra nostra telespettatrice che da San Costanzo ne ha approfittato per fare questo scatto e immortalare questi colori, questo sole che passa tra le nuvole. Oggi sarà una giornata nuvolosa anche se non avremo grosse precipitazioni sulla costa, però insomma ecco questa è la fotografia, l'immagine di questa bella alba vista da San Costanzo. Allora cominciamo a leggere i giornali, questo è il Corriere Adriatico, l'edizione di Pesaro. Negli asili vaccini in regola, due iscrizioni da verificare. Primo giorno d'asilo ieri per i bambini già iscritti alle scuole dell'infanzia comunali con i genitori a discutere sull'obbligo vaccinale. A Fossombrone il sindaco ha incontrato i genitori e i docenti della scuola dove sono state sdoppiate queste classi, sono state divise per consentire la frequenza ad una bambina immunodepressa e a due bambini che non sono stati vaccinati. Quindi hanno dovuto dividere queste classi per non farli stare insieme, così la bambina starà con i bambini certamente vaccinati. Poi di spalla soldi ai comuni, chi prenderà i fondi e chi no per le periferie. Allora c'è stato questo incontro con il Premier Conte e se vale il criterio che sarà premiato il comune che ha già progetti appaltati, ebbene il Corriere Adriatico ha svolto uno screening nei comuni interessati per verificare lo stato dell'arte. Ancone e Pesaro sono ben piazzate, Macerata corre mentre più indietro ci sarebbero i comuni di Fermo e Urbino. A centro pagina giù i teloni l'arco a Pesaro della pace è tornato bello, il proprietario Livi dice Siamo davvero contenti è uno dei simboli della città. La pagina, il Carlino invece ha deciso di aprire con il miracolo di Sian Nicola, la fiera che ha chiuso ieri e che ha registrato zero venditori abusivi. La fiera, credo che sia un record mai successo, la fiera chiude con appunto un record spariti i venditori di merce taroccata, mentre sopra sui vaccini il preside divide la classe per salvaguardare una bimba l'inizio dell'anno agitato alla una scuola elementare di Fossombrone, la piccola era stata messa in aula insieme a due alunni che non erano stati vaccinati protestano i genitori che però ottengono appunto la separazione della classe. La dirigente dice adesso è tutto ok, ma a Fano ieri è arrivata la notizia della morte di William Santorelli commercialista, era stato per vent'anni presidente nazionale dell'ordine, tanti gli attestati di cordoglio alla famiglia naturalmente, le esequie domani avverranno alle 10.30 in Duomo nella cattedrale, tra l'altro è previsto anche in città l'arrivo di numerose personalità politiche e istituzionali e non è esclusa la presenza anche di Giulio Tremonti e lo vedete qua appunto insieme a William Santorelli, mentre qua nella foto più grande è con Carlo Azzeglio Ciampi mentre il Corriere Adriatico titola è morto William Santorelli, fu guida dei commercialisti, presidente nazionale per vent'anni dei ragionieri, accompagnò la fusione con l'ordine dei dottori, attualmente presiedeva il collegio di disciplina nominato da Ciampi nel 2001, grande ufficiale. E adesso sempre dalla pagina del Corriere Adriatico da Marotta la morte di Misteriosa, che oggi non è più Misteriosa perché c'è il referto dell'autopsia, la morte di Daniela Leporoni, che sarà poi tumulata nel cimitero di Mondolfo. Ebbene, è stata eseguita l'autopsia, le esecue ci saranno alle 15 nella chiesa di San Giuseppe. Oggi l'addio appunto a Daniela, l'autorità giudiziaria ha autorizzato la sepoltura nella giornata di ieri, dopo l'autopsia effettuata all'ospedale nell'obitorio, mentre il Carlino titola Daniela tradita dal cuore. Eseguita l'autopsia sulla 36enne trovata senza vita dalla madre, il battito si è fermato mentre dormiva, forse un disturbo del ritmo, aveva sempre il sorriso sulle labbra, entusiasmata della vita e del suo lavoro. Igli e Mario, torniamo al Corriere Adriatico, la vicenda di Sant'Angelo Invado, la morte di Ismaele Lulli. Igli e Mario erano presenti alla morte di Ismaele, questo 17enne barbaramente ucciso appunto sulle colline di Sant'Angelo Invado. Però resta il mistero di chi l'abbia ucciso tra i due. Le motivazioni della sentenza d'appello con la doppia condanna all'ergastolo, delitto nell'indifferenza. E adesso la pagina che riguarda l'arrivo di Matteo Salvini, ministro dell'Interno e naturalmente segretario nazionale della Lega, che parteciperà alla festa regionale in programma all'aeroporto di Fano davanti agli Anger, da venerdì a domenica. Sono attese naturalmente migliaia di persone, soprattutto per il comizio di Salvini alle 21 di sabato, ma non è escluso che il ministro arrivi anche un po' prima. Imponente il dispiegamento di forze dell'ordine, previsti anche agenti in borghese. Da Pesaro il resto del Carlino ancora punta sul Miralfiore. Miralfiore, ecco il segreto per ridarlo ai pesaresi, cartelli, cancelli e recinto. Lo zoologo spiega come far rinascere il parco. Lo zoologo è Massimo Pandolfi, che vedete nella fotografia qui sotto. Si parla degli eventi, tanti eventi, non uno. Invece di appuntamenti rari che portano però migliaia di persone tutti insieme, meglio piccoli raduni con meno persone. Ladri che continuano nella notte a far razzia a destra e a sinistra. Raide questa volta in spiaggia, i bagni Bibi e Caletta 52. Ci sono stati naturalmente danni e furti, perché dove passano i ladri lasciano anche danni che forse sono più ingenti del bottino che solitamente riescono a portare via. Forzate porte e finestre. Divelta la cassaforte e rubato l'incasso dei bagnini. Gianni Angeloni dice non credo siano ragazzini. La polizia prende le impronte e visiona le telecamere di videosorveglianza. Dicevamo dell'arco del Miralfiore finalmente liberato. Livi dice sono contento. Questo è un simbolo della città, il monumento ingabbiato dall'agosto del 2016 quando era rimasto danneggiato dalle scosse di terremoto. Ieri mattina sono iniziate le operazioni per togliere gli allestimenti, mentre il proprietario di questo arco, Livi, nella fotografia qui sotto, l'imprenditore dice lavori un po' sofferti ma adesso è tornato allo splendore originario. Andiamo sull'altra pagina del giornale, questa volta torniamo sul resto del Carlino. Da Sant'Angelo in vado, morto a 72 anni Daniele Montecchi, è stato sindaco di Sant'Angelo. Era malato da anni, il funerale sarà sabato pomeriggio alle ore 15. E poi la storia scritta dal Corriere Adriatico che arriva da Senigallia di questo uomo che vedete nella fotografia, lo cerchio qua sotto, si chiama Mohamed Belbaï e vive in un hotel tra muffa e prostitute. Non ce la faccio più, racconta lui, e chiede aiuto. Ha perso il lavoro e da due anni aspetta dal comune di Senigallia un alloggio più dignitoso perché vive in una stanzetta, questa guardate è la finestrella che dà sulla strada, praticamente è impossibile, quella è una macchina, la vedete al di là della grata e quindi è impossibile tenerla aperta perché quando piove chiaramente entra l'acqua e quando non piove le auto che parcheggiano oppure che transitano, il gas di scarico entra praticamente dentro quella stanzetta che diventa poi una camera gas. Sfuma l'acquisto dell'auto, è sempre da Senigallia, la cronaca, il venditore lo minaccia, un 45enne di Ancona è accusato di estorsione, pretendeva il mancato incasso. Poi c'è stato un blitz della Polizia Municipale di Senigallia contro gli abusivi ed è stata elevata anche una multa da 5 mila euro. Invece dalla Valle Foglia, schianto fatale a Montecchio, depositata la perizia tecnica, il consulente lo stesso della tragedia di Hayden, nell'incidente era morto Stefano Conti e dunque c'è questo super perito Orlando Omicini, lo stesso che ha lavorato per far luce sulla morte del pilota statunitense Nicky Hayden, avvenuto sulla strada Riccione Tavoletto di Misano, che ha depositato la relazione tecnica sull'incidente avvenuto lo scorso 8 aprile a Valle Foglia, costato la vita il giovanissimo Stefano Conti. Indagini sulle cause che hanno portato la morte del 21enne portiere del Mondaino Calcio, originario di Valle Foglia ma residente a Montegredolfo, potrebbero essere dunque ad una svolta. Ma qui vedete anche l'eliambulanza, una moto contro un'auto, una donna soccorsa ineliambulanza. C'è stato un violento scontro frontale ieri pomeriggio a Trasanni di Urbino, sono state coinvolte nell'incidente due persone in sella di una motocicletta che si è schiantata contro un'autovettura. Da Fano, da lunedì, tante spiagge verranno chiuse, sta finendo l'estate, è purtroppo in città, però ci sono ancora turisti. Lo abbiamo visto, non so se vi siete accorti anche l'altro giorno, quando siamo andati a fare le interviste, le vox, come le chiamiamo noi, in città. Devo dire, sono rimasto sorpreso perché abbiamo raccolto tanti pareri sulla questione delle chiusure domenicali dei centri commerciali, ma tanti erano forestieri. Abbiamo quasi fatto fatica a trovare dei fanesi. Lungo corso Matteotti, buon segno. Però, dicevamo, il dirigente della regione Pucci dice che è un errore, puntiamo sulla destagionalizzazione. Poi molto dipende, come sappiamo, dal tempo, dalle condizioni meteorologiche. Comunque sono state già sfoltite le file degli ombrelloni, pochi concessionari arrivano fino al 30 di settembre. Mentre tornano le ex reclute a Marcordala Paolini, dopo il successo dell'anno scorso, si ripete anche quest'anno il raduno degli ex militari, quelli che hanno fatto il militare alla caserma Paolini di Fano. Si tratta di un'iniziativa che, oltre a rinsaldare vecchi vincoli di amicizia, non nasconde anche il suo rilievo turistico. Ci sono diverse iniziative, tra le quali anche il San Costanzo Show. Andiamo sulla Valle del Cesano, la pagina del Corriere, con la foto del sindaco di Mondolfo Nicola Barbieri. Educazione alla cittadinanza, una proposta di legge popolare, aderisce anche al Comune di Mondolfo. Obiettivo 50 mila firme entro il 16 di gennaio. È un'iniziativa promossa dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani per sostenere l'introduzione dell'insegnamento di educazione alla cittadinanza come materia scolastica. In ogni scuola, di ogni ordine e grado, attraverso una legge popolare. L'obiettivo della proposta, che ha trovato consensi in molti sindaci, è quello di raccogliere in sei mesi le 50 mila firme necessarie per il deposito in Parlamento. E allora, se ci state ascoltando dal Comune di Mondolfo, sappiate che potete firmare per introdurre quella che forse era l'educazione civica nelle scuole, ma in questo caso veramente bisogna tornare a spiegare nel dettaglio come bisogna comportarsi, tornare all'ABC. Ma chiudiamo la nostra segna stampa con questa notizia che prendiamo dal Corriere Adriatico. Si parla di Giuseppe Ottaviani, questo atleta di 102 anni, che è di Santi Polito, nel Pesarese, e che ha vinto altri due titoli mondiali. Cioè, veramente, senza fine, una cosa incredibile. Da record praticamente rimarrà imbattibile per sempre, perché ha vinto altri due titoli mondiali in Spagna, Malaga, Giuseppe Ottaviani, quindi sfida ogni limite e ormai possiamo dire che non teme più nulla. E sapete che cosa dice lui, che cosa ha raccontato a chi lo ha intervistato? Lo sport fa bene e fin qui lo sappiamo tutti. Ti fa vivere e stare bene insieme agli altri e fin qui lo sappiamo benissimo. Poi aggiunge, ed è una cosa importante, per star bene da meno giovani, come lui che ha 102 anni, è fondamentale la curiosità. Bisogna allenare il cervello. A 94 anni, racconta Giuseppe Ottaviani, mi sono comprato un computer e ho imparato ad usarlo perché mi ero roso conto che stavo rimanendo indietro. Pensa un po', eh? davvero complimenti. E allora, i nostri giovani invece nascono con il computer in mano, quindi bisognerà vedere un attimo come calibrare le due cose. Ragioniamoci, poi se avete la ricetta potete inviarla anche al numero di telefono che tra poco la regia, eccolo qua, vi manderà in onda, che serve anche e soprattutto per le segnalazioni che come sempre ci inviate tutti i giorni. Noi ci vediamo stasera alle 20.30 con il telegiornale. Arrivederci e buona giornata a tutti.